Per il Movimento 5 Stelle l'incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica nella mega discarica situata alle porte di Chieti è un disastro annunciato. Già nel febbraio 2014 infatti il Movimento 5 Stelle aveva presentato un dossier dove venivano evidenziati oltre mille siti potenzialmente inquinati in Abruzzo e tra questi, come ha rilevato il consigliere regionale Sara Marcozzi, c'è anche il sito chietino di Colle Marconi. Purtroppo un disastro annunciato, noi lo avevamo detto più di un anno e mezzo fa, era il febbraio del 2014 quando il Movimento 5 Stelle a Chieti presentava un lavoro svolto tra l'altro da cittadini e attivisti perché nessuno di noi ricopriva incarichi istituzionali dove denunciavamo i mille siti potenzialmente inquinati presenti in regione Abruzzo, compresa la provincia di Chieti, compreso il sito che si è incendiato stranamente qualche giorno fa, un paio di giorni fa. È assolutamente un disastro annunciato e ci sono delle responsabilità di inerzia da parte dei comuni, da parte della regione e debbo dire anche forse da parte della procura che non ha provveduto a ritirare e a sequestrare quei documenti che erano all'interno della discarica. Quello che chiediamo a questo punto è nel momento in cui ci rendiamo conto che anche l'Abruzzo è terra dei fuochi perché questo è quello che emerge dagli ultimi due giorni. Chiediamo un impegno concreto ai sindaci dei comuni interessati e al presidente della regione per attuare quello che non è mai stato attuato e cioè un piano di bonifica dei siti inquinati e soprattutto una delle misure concrete per reperire fondi e quindi milioni di euro per bonificare il nostro territorio.